La dunata con un breve post su Facebook, ci vediamo a scuola ma non per andare a lezione. Anche a Modugno, dopo le scuole di Bari, gli studenti del tecnico Tommaso Fiori hanno occupato l'aula magna e lo faranno ad oltranza dopo aver proclamato l'autogestione. Vogliamo comunque difendere la scuola pubblica perché la vogliono far diventare privata e quindi vogliamo difendere i nostri diritti e cercare di comunque mantenere il passo con altre scuole che stanno facendo lo stesso metodo di protesta. Sono poco più di un centinaio di studenti che si sono organizzati per trascorrere le giornate lì a scuola. Il preside Eugenio Scardaccioni avrebbe anche tentato di farli desistere convocando d'urgenza una riunione ma alla fine l'hanno spuntata loro. Autogestione ad oltranza con la prima ora di lezione e poi tutti in aula magna per discutere. Di cosa? Della riforma del governo Renzi urla qualcuno. Siamo stanchi di subire senza ribellarci. Momenti di tensione si sono registrati all'ingresso quando un gruppo di genitori ha chiamato i carabinieri. Nelle prossime ore potrebbe essere formalizzata una denuncia contro i gnoti.